Mattina Primo, mettersi in posizione comoda, pur restando vigili. Secondo, qualche respiro profondo. Terzo, visualizzare i tre aspetti della nostra personalità in contatto con l'anima. Immaginiamo un filo che li colleghi e lungo il quale può affluire, alla personalità, l'energia dell'anima. Affermiamo cercando di realizzarlo. Io non sono il mio corpo fisico, transitorio, illusorio. Io non sono le mie emozioni, variabili, camaleontiche. Io non sono la mia mente, instabile, separativa. Io sono un punto di fuoco, eterno, immortale, perfetto. Io non sono il nostro buono. Io non sono le mie emozioni. Io non ho abbiamo vero. Grazie a tutti